Prosegue l'attività di implementazione degli ambulatori specialistici nella provincia di Pesaro Urbino. A partire da giovedì 28 settembre nel distretto sanitario di Pesaro verranno erogate visite di chirurgia plastica. Inizieremo a breve l'attività ambulatoriale di chirurgia plastica. È molto importante perché stiamo costruendo un po' sul territorio quelle che sono le attività simili a casa della salute, in modo tale che il cittadino possa trovare distribuita nel territorio di prossimità quelle che sono le prestazioni più semplici senza dover ricorrere alle strutture ospedaliere. Abbiamo deciso di distribuirlo anche sul territorio, non solo a Pergola ma a Fano ed anche a Pesaro, proprio per evitare che ci siano spostamenti e per far sì che tutta la piccola attività diagnostica e terapeutica possa essere fatta lontano dagli ospedali, in modo tale da dare spazio agli ospedali per la grossa complessità, per il recupero della chirurgia ortopedica e per le elevate complessità. L'ambulatorio di chirurgia plastica sarà gestito dal dottor Adriano Izzo, un professionista dalla consolidata esperienza sul campo, già medico dell'equip di chirurgia generale all'ospedale di Pergola. Sarà possibile accedere al nuovo ambulatorio, spiega il direttore generale di AST, Pesaro Urbino, utilizzando le modalità già in uso per tutte le altre prestazioni specialistiche. Come tutte le altre prestazioni specialistiche si può accedere tramite la richiesta da parte del medico di medicina generale e le prenotazioni a cuppe. Le agende e i numeri di prestazioni che sono state concordate adesso possono essere oggetto di modifica e quindi di ampliamento qualora la richiesta sia ulteriormente accentuata. Dopo gli interventi a Pergola e Vallefoglia prosegue il percorso di aumento dell'offerta. Stiamo aumentando anche su Fossombrone e stiamo orientando l'attività chirurgica dei tre ospedali della nostra AST, sia su Pesaro, Fano che Urbino. La chirurgia o Palazzo è quella branca della medicina che si occupa più che altro di restituire, di rimuovere, di ricostruire, di ritare le dimensioni di quello che è stato danneggiato. I danni possono essere stati causati da varie cose, insomma da un danno ustione, quindi un trauma, che può essere un danno oncologico, che può essere un danno a seguito di interventi chirurgici, come vediamo appunto le ricostruttive della massoplastica additiva post-oncologica. Quindi la chirurgia plastica è quella branca della chirurgia che deve restituire un corretto assetto anatomico-fisiologico dalla parte lesa. Questo come lo facciamo? Lo facciamo attraverso varie tecniche chirurgiche. Diciamo che è un po' un servizio di sartoria, tra virgolette, tramite l'allestimento di lembi, tramite l'allestimento di trapianti di pelle, si chiamano appunto innesti dermocutaneo-otologhi. Ci serviamo di questi mezzi per ricostruire tutte le parti mancanti, soprattutto la parte cervico-facciale, di asportazioni di lesioni, altrimenti non facilmente riparabili. A volte il paziente è preoccupato per una piccola lesione sul volto, a volte il paziente presenta una piccola cicatrice, è retraente, presenta una cisti, è preoccupato. Io gli devo risolvere il problema. La chirurgia plastica qui lo possiamo fare in ambulatorio chirurgico del poliambulatorio dell'asta. Tramite la rimozione, tramite la ricostruzione con piccoli lembi a volte di pelle o piccoli innesti presi dalla coscia, dal lingue, da varie parti del corpo e messi e suddurati sulla parte lesa. Ovviamente va incontro a una serie di medicazioni, pian piano nel tempo, ma comunque daranno al paziente un giovamento di guarigione chirurgica. Grazie. Grazie.